Avete mai provato il couscous di cavolfiore? Tra poche ore avrò una meditazione, per me quindi questa sarà una cena perfetta. Nutriente o divertente? Oro, il cavolfiore non è una palla. Leviamo le foglie e la parte interna. Dopodiché tagliamo il cavolfiore a pezzetti. Non è importante che siano uniformi. E ripognamoli in due riprese in un frullatore. La consistenza che vogliamo ottenere è proprio quella del couscous. È il momento di condire. Io ho scelto olive taggiasche, pomodori secchi, capperi, uvetta, salsa tahin e come componente proteica ho scelto delle fave che avevo preventivamente cotto con salsa di soia e delle carotine. Olio e mescoliamo. Ed eccolo qua, il nostro couscous di cavolfiore velocissimo e duolosissimo. Un qualche fogliolina di basilico. Siamo alle solite. Un piatto unico ricco di nutrienti, totalmente vegetale e senza gluteo. Buono buono e anche leggero. Ora sono super pronta per andare alla mia serata di meditazione. Non prima di averci vato anche oro. Buono 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 buono